Sono tre le linee di attività del progetto insetti impollinatori del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, monitoraggio, interventi, comunicazione. Il presidente del parco, Tommaso Pellegrino, in sinergia con il direttore Romano Gregorio e allo staff dell'ente parco, hanno comunicato i dettagli delle attività per salvaguardare gli insetti impollinatori, si partirà dal monitoraggio, raccolta dati e valutazione diretta a migliorare la conoscenza del declino degli impollinatori attraverso la valutazione dello stato di conservazione e l'individuazione delle pressioni che minacciano le popolazioni presenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Si passerà poi agli interventi per affrontare le cause del declino a partire dall'aumento della disponibilità degli habitat e dal miglioramento della loro connettività, anche favorendo la realizzazione in aree ad agricoltura intensiva di fasce tampone ai margini delle colture, filari, siepi e incolti e contrastando, soprattutto in zone montane e collinari, l'abbandono di aree agricole marginali, ricche di specie erbacee e selvatiche, portatrici di elevata biodiversità, attività basata sui dati e sulle informazioni raccolte con la prima attività. La terza attività, infine, sarà incentrata sulla comunicazione, obiettivo principale, la sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sull'emergenza affrontata, coinvolgendoli e promuovendone la collaborazione per favorire il loro fattivo contributo alla tutela.